È stato inoltrato un esposto direttamente al prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, da parte del Comitato Promotore del referendum consultivo Gran Sasso, perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha di fatto bocciato la nomina del giudice Giuseppe Romano Gargarella quale membro del Comitato dei Garanti, espressa dal Presidente del Tribunale dell'Aquila. Un duro colpo al diritto dei cittadini di partecipare democraticamente al referendum, hanno tuonato i fondatori del Comitato Luigi Faccia e legale rappresentante Gianluca Museo. In sostanza sarebbe stato un referendum sui confini dell'area protetta del Gran Sasso e Monti della Laga, con la proposta di rimodulazione dei confini dell'area protetta e con la richiesta rivolta alla Regione di limitare i cosiddetti SIC, siti di interesse comunitario, già individuati che in base alla direttiva europea Habitat dovrebbero essere trasformati in zone speciali di conservazione. Una consultazione popolare per la quale erano già state raccolte 5.000 firme e che a quanto pare non sa da fare. La raccolta firme deve essere sospesa e noi riteniamo che la democrazia in questa città proprio sia interrotta con questa situazione, in quanto un po' per quanto riguarda il CSM che ha negato la partecipazione del magistrato nel Comitato dei Garanti, ma soprattutto dovuto a uno statuto e un regolamento sulla partecipazione del Comune dell'Aquila che è completamente inapplicabile, il diritto alla partecipazione dei cittadini dell'Aquila da questo giorno viene accessato e quindi cessa la democrazia in questa città. Lo statuto del Comune dell'Aquila all'articolo 5 prevede che vengano eletti i quali membri del Comitato Garanti, dei promotori il referendum, un difensore civico, un segretario comunale e il Presidente del Tribunale, che a sua volta ha delegato al giudice Gargarella il suo incarico, bocciato poi dal Consiglio Superiore della Magistratura, perché ritenuto non conferente al ruolo istituzionale del magistrato. È la prima volta, spiega l'Avvocato Museo, che al Comune dell'Aquila si fa ricorso al referendum consultivo. Giuridicamente significa che abbiamo dovuto necessariamente inoltrare stamane un'istanza al Prefetto perché l'articolo 15 ha di fatto purtroppo negato ai cittadini quel diritto loro costituzionalmente garantito di potersi esprimere per mezzo di un referendum consultivo.